ciao raga tutto rego bentornati a gta online oggi proseguiamo con le rapine del nuovo dlc caccia l'unità di controllo è quella che mi marca allora individa quel container del treno contiene un'unità di controllo scolpi quando saranno trasportati di controllo troviamo modo di fermare il treno e poi si ruba due preliminari e una rapina c'è la parola al primo colpo speriamo di sì perché non voglio montare anche questo video appena la tizia è finita di parlare inizia il colpo questo è un odio sling la santa tarris e diciamo che rulla anche se le rapine sono un po troppo difficiline relativamente a quello che davano io avrei dato almeno mezzo milione giusto per non sfigurare quel caglio pericolo ma va bene anche così dai ok adesso mi chiamo e mi dice dove andare basta così tre chilometri va bene che diventano ceduo e meso non è cinquanta ok vediamo se troviamo uniforme così possiamo entrare senza fare ammazzate altrimenti volo per essere chi se ne frega e dove sono? c'è un container e dove andremo a trovare il documento al trasporto dei containers dove sono questi uniformi? oi? c'è tipo? c'è un'uniformina? oi c'è? c'è un'uniformina? Questa ce l'avrebbe... Allora, i uniformi io non li vedo, a dire il vero, quindi... Oh oh, li ho allarmati! Quindi niente, roba furtiva, giusto? Torniamo sull'oppressorino, perché qui non siamo sul retro, ma a prua, credo. Allalà, no problem. Oh, ci sono anche gli elicotteri, che carini! Ops, non ci sono più gli elicotteri! Allora, vorrei sapere dov'è il retro della nave? Magari il solito posto, dai! Tipo qua sopra? Che ne dite? Scendiamo qua. E abbiamo già trovato! Andiamo a fare la foto! Scusate! Vediamo la fototipa, e ristaviamo sull'oppressorino. Possiamo andare. Oh, che barba! Devo andare a trovare una smeriatrice! Sembrava troppo easy! Alicotterini, dove siete? Ciao! Ciao! Cosa cos'è? Altri due elicotteri? No, non c'è problema! Ancora vivo! E tu? Qualcuno mi sta sparando! Sei così vicino! Ehi! Ops! L'hai mancato! Ops! No! Quindi qua la smeriatrice! D'onde sta? Ancora elicotteri! Siete davanti! Se abbiamo finito! Io andrei... Come direbbe... Ancora elicotteri, cacchio! Va bene! Copiamoci degli elicotteri! Dove siete? Dove siete? Oh! Ce n'è ancora uno! No! I lammister pagano sempre i loro debiti! Dovrebbero essere finiti gli elicotterini! No! Ancora! Oh! Perché non lo punti? Perché è finito i missili, cacchio! Ingradebola! Oh! Ai ai ai! Scendi! E vai a ripararti! Va bene! Ho le mie armi potenti! No problem! Moro! Qui siete? Uno di qua! Aspetta cosa vuoi! Non vuoi dire parolacce? Allora elicottero! Allora elicottero! Adesso basta! Mettetevi dall'altro lato! E la facciamo finita! Secondo me adesso... Precipiterai! Un elicottero! Un elicottero! Stai precipitando secondo me! Forse no! Ops! Adesso si! Allora... D'onde sta? Trovo una smerigliatrice! Com'è fatta una smerigliatrice? Sarà mica questa? Stephen Jobs! Questa è un'arma! 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 E deve essere questa smerigliatrice! Un'arma! 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 Guarda quella che l'energia! La stavolta! Attenzione! non userò i miei welcome to the cops c'è qualcuno dietro? dove eri? fate vedere ecco il terreno quanto tempo sta perdendo per fare sta scemata di mission meno male che non c'è andiamo a vedersi qua non credo vediamo eccola grazie consegna smeltiettrice prego tech ehi ok torniamo al pressorino e andiamoce perché tolto con la violenza non risolverete i vostri problemi io me ne andrei e la prima preparazione è andata oh la 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 laa meno male che era in città oh la 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 c'è qualcosa al pad che mi fa sbandare il palo cioè l'albero c'è qualcosa e questo pezzo et voilà ecco qua veicolo personale e 4 euro del deposito tac mi chiede veicolo personale tac e finish fammi vedere che c'è l'oppressorino e poi entriamo ok finita andiamo con la seconda preparazione anche se questa roba di fermare vabbè il treno non va fermato magari bisogna essere accesso là sopra ci riuscirà il primo colpa speriamo da sì magicamente rientro nell'ufficio hop hop idee tabella oraria andiamo a recuperare la tabella oraria dai fammi sta chiamata così ci leviamo dalle scatole ok opposite side non vedo 5 goiometrazi ma finché c'è l'oppressor non è un problema il problema sarà quando dovrò fare la missione che sarà una noiosa guidata una noiosa guidata fino a chissà dove però un po' tutte le missioni sono così prima si fa la guidata così intanto il personaggio si fa la chiacchierata e poi arrivi lì David Squartz cacchio non prende quota quando fai quest'ex adesso devi squartz quando manca più schinometri se quelle palle mi beccano sono cacchi siamo arrivati no problem solo una foto del treno tutta qua e te la faccio volando io ho già trovato il treno scatto la foto del treno ehi non posso far foto del oppressor se non l'ho mai provato scatto la foto del treno no problem usiamo lo zoom e abbiamo la foto del treno tutto qua tutto qua dove sono sti freni posso anche non andare vicino posso usare lo zoom lo zoom one già fatto posso andare posso andare a torre di controllo dov'è? qua dietro ci sono altri soldi ativi Sì, eh sì. Riesco ad entrare senza farmi schermare. Facciamo Italian Sniper, dai. Allora, questo è un assolenziatore. Cacchia fai. Sembra che le telecamere non si spengono. Invece ne sono due. Eh, c'è la telecamera lì. Quello se n'è andato, si è salvato. Sai cosa ti dico? Ci vado in Oppressor. E quello che devi succedere, succede. E tu dovevi venire proprio adesso. Pessima idea. Mi sono caduto davanti. Vabbè, almeno... Ehi, cacchio, fai. Devo guardare l'orario dei treni. Tac. Preso. Scusi. Cosa è sto pad, cacchio? Cioè, mi ha presso. Cioè, è morto così. C'è qualcosa che non va al mio pad. Va bene. Non abbiamo tempo da perdere in battaglie. E non ci sta neanche a perdere tempo da battere i vostri elicotterrini. Preparazione easy. Vediamo come funziona il resto. Oh, si sta rompendo il pad che... È durato anche un anno. Strano. Ehi, no. Ci hanno rinunciato. Ci hanno rinunciato. Tre chilometri. E sono arrivato. Sbanda. Cioè, bu. 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 Questo è no buono, eh. Ma se muove questo, ti cambia. Non lo sapevo. Sì, il pad che sta andando, cacchio. Gli analogici... O sono i digitali? Vabbè, insomma. Le levette stanno... Cacchio. Questo sarà un problema per grande missione. Va bene, gira di qua, scende di là. Tagliamo un metro. E andiamo a fire the last one. Dovrei fare tutto. Giubbotti, snack. Che per queste rapine sono assolutamente indispensabili. Dovete avere il pieno perché sono difficili queste rapine. E un attimo che... Che vi seccano. Ok, la rapina. Una piccola rapa. C'è anche la promozione. Stick. Secondo tentativo della rapina. Primo fallito miseramente. Però... Ho capito che cosa fare. Allora... Giubbotti antiproglietti. E secondo me... Meglio... Atterrezzatura da tiratore scelta perché ci sono le bombe adesive. In quanto bisogna far saltare i freni di quel cacchio di treno. E niente... Adesso mi tocca rifare la sessione di guida. Sette bei chilometrazzi. Che è una roba veramente noiosa. Questa missione. Questa missione. Non vi seccano più di tanto con gli spari. Però... Non ti sa mai. Adesso bisogna riservarsi la spiegazione. Per chi vedrà il video sarà la prima volta. E mi viene... E c'è già la seconda. Questa chiama anche lo scemo. Che dice... Allora... Dami un secondo. Ehi yo... Get the fuck out of here motherfucker. I gotta take this call. All right... Let's do this. We're out. We're gonna be at the train in a few minutes. Allora... Intanto mettiamoci la bomba designa. Anche se non è facile eh. Spararla nel punto giusto. E questo non ci ho pensato. Siamo a quattro chilometri dal treno. No. Potrei mettere una macchina in mezzo alla strada ma meno spazzate. E via. Quindi niente. Bisogna solo inseguirla e sparare. Ispirare e sparare. No. 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 Comunque le missioni dove c'è da inseguire a qualcuno le altre. Soprattutto quando poi scopri che c'è un contente insieme. Andate in accettazione del treno... ...in questo schifo di... ...casino... Ma di vero, a me piacerebbe salirci sopra il treno. Ma che piacerebbe farci... Allora... 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 Intanto il treno arriva da là. Infatti c'è l'elicotterino. Pronti a... ...attarre le mazze vite. Questa sarebbe una bella immagine... ...come copertina del video. Distruggi il cilindri nel treno. Se... Certo... Ma... Posso passare qui? Il cilindri... Ecco qua. C'è... Fermati... Sbagliato... E la prima è sbagliata... Vuoi passare? Cacchio! Sì Secondo sbagliato Sì, grande No, 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 non la sfasciare perché poi la macchina si ferma Ok Altro lato, altro lato E' inutile sparare a quello indietro Tanto se siete davanti non vi beccano neanche Cacchio Sì, grandissimo Questo è un grande successo rispetto a prima Questo non ne aveva beccato neanche uno Quindi ho finito le bombe, va bene Però c'ho Un buon po' di time E spero anche le munizioni Per seccare sta mer... ringa Anche se la macchina è già rovinata Cacchio L'energia Aiuto Nooo Nooo Nelventario Ci fa tanti proiettili Qui c'è molto pesante E via Si passa qui Sbagliato Andai Attenzione 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 Togliato Togliato Che cacchio fai Aiuto Se li capitano Sottotiro Sparate Loro Non faranno complimenti Vedete quanto è più difficile Nooo Cacchio Questo è grave problema Quando succede ciò Sapete Perché sti infame Vi lascia in mezzo al niente Con un elicottero che vi spara Dai Cacchio Ma vai Dietro al treno Cosa mi spari a me Inventario Ci fa tanti proiettili Ci fa tanti pesanti Via Il treno Salito Sì Lo so Che mi devo spregare Va bene Lasta chance Non voglio rifare Sta missione Del Kaiser Consiglio Partire Dalla posizione Di sinistra Ops Cosa ci faceva Qui giù Oh Dai 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 Girati No 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 Inventario Ci fa tanti proiettili Ci fa tanti pesanti Via Grazie Mi hanno già rovinato Snack Inventario Non ci fa tanti proiettili No Cacchia fai Ci fa tanti pesanti Snack Dov'è la roba? Treno Dove sei? Eccoti Non ci fa tanti Da 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 si è andata, si è quasi andata siii ok allora, prima l'elicottero distruggere, perchè sennò cacchio cosa hai fatto? uno, due, tre ecco cavoli inventario inventario, ci sono tanti proiettili intero snack non so se si può uccidere quel cacchio di elicottero ok come si sale su sto coso? non da qua oh si posso... ah questo cacchia vedi stanno arrivando degli infami perchè ho qua il dubbio questa gente arrivi all'infinito macchina macchina vediamo se questo cacchia di cosa può servire all'occasione siii siiii cacchio si mettiamo in inventario giubbotto antiproiettile ne ho solo due usare come un parsimonian come si dice quindi come sono ste robe cerchi un'unità di controllo sul treno abbassati che questi ti sparano qui non c'è qui non c'è ok questo è ottimo tac è ottimo perchè qui ti apre anche delle protezioni siete voi? no? no 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 cacchio non l'avevo visti snick non ci ho patente i proiettili l'ultimo sei stato perso vai giù bravo mettiti a caricare mentre stai sparando a stinfano scommetto che sarà nell'ultimo posto dove vado a controllare quella cacchia di unità dai un po' di fortuna dammela siiii come si sta passando? è terminato è terminato è terminato è terminato è terminato è terminato si stai tranquillo bambina niente niente che non abbiamo cavolo cavolo l'ho già tirato giù la devo prendere ancora ma dai ehi attenzione cosa stai combinando? sali spero che non mi becchino mentre faccio sta roba non comunque poca energia cacchia andiamo qua dentro inventario non c'è snick siete troppi cavolo cavolo fai ti giri quella di la vai 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 ne contro in meno e spassante in meno inventario snick si magna ok hai fatto una discreta no un'altra elicottero ma dai 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 questo cos'è? siamo a posto? con l'elicottero non vado da nessuna parte se non tiro giù per ora non vado da nessuna parte se non tiro giù non vado da nessuna parte se non tiro giù Oh, torna dentro e sneccati. Viete orite? E lento sta. Sono messo male, ragazzi. Come mi salvo? Cioè, appena esco mi fanno fuori l'elicottero e i tizi. Eccoli. Se mi sfacci... Ecco lì. Un infame meno. Dai. Sei qua vicino, lo sento. E tu? 12 parolacci. Ok, quello è andato. Qui fuori c'è qualcuno altro. Ditemi, c'ho qualche possibilità che finiscano sti soldatini? Oppure... Finché sono qua, sono fregato. Perché se non ci fosse l'elicottero, almeno, quasi quasi... Riuscirei... Quasi quasi. Sti fra gioco. Ci fanno giù pesante, mio affamore. Sta più a vuoi con Mau. Dai, prima o poi dovete finire. Ops. Mi servono colpi più mirati. Tac. C'è qualcun altro? Mi vedi, ne arriva già un altro. Riuscire a tirare giù l'elicottero, non ce n'è. Sì, è tirato giù. C'è solo qua un tizio. Inventario. Sì. Snack. Dai, muoviti questo making. No, un altro elicottero. Cacchio! E nel lato sbagliato. Non esco vivo. Nel lato sbagliato. Allora, bisogna sbrigarsi quando... Nel lato sbagliato. Giante o a post. Let's put the weapon down! Nel lato sbagliato! Ti do! Ti do! E' nel lato sbagliato! E' nel lato sbagliato! E' nel lato sbagliato! E qui si va avanti all'infinito, non ci sono cacchi. Vai, 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 vai. Inventorio. Snack per cortesia. Ecco Esther. Ecco Esther. Cacchio. Se ce la faccio, sono un grande. Proviamo a non seguire le strade principali. Teniamo gli snack aperti. Mi starò andando in direzione giusta, spero. La cacchia di galleria mi scrive. Dovrei tornare sulla strada in fine versiva. C'è la macchina mezza rotta. Tocchiamo il meteo tanto, va bene. La distanza si sta accorciando. Anche questa è un'altra missioncina bella, fucosa. basta che non ci sia quel cacchio di elicotteri. Siamo quasi in città. Sì, c'è l'elicottero, ultime parole famose. Grazie per aver ascoltato le mie preghiere. Questa macchina si è avvenuto. Eh, Kate, tu devi andare in una scena. Ehi, baby, sono già in me la zona. Questa macchina si è avvenuta. No, non ci sia in caso. Sì, c'è l'elicottero. Non ci sia l'elicottero. Non ci sia l'elicottero. Non ci sia l'elicottero. Non ci sia l'elicottero. Allora, non ci sia l'elicottero. Cavoli, se ti fa spaventare sta missione. Figlia di zoccola. Scusate la parolaccia. Vedi che c'è un esperatore in corsa? Ancora questo, maledetto. Sì, se ne sono andati. Sì, sì, ma Remma che fatica. Farle da solo è bello difficile. Vedete se posso anche fare tutti gli incidenti che volete. Cavoli, che fa la missione. C'è una macchina. Qui devono andare. Che fatica. Sì. Ciao, raga. Com'è, butta. Grandi. È stata una bella sfacchinata, ma ce l'abbiamo fatto, ragazzi. E anche questa è andata. Ne ho fatte sei. Non so se ce ne sono altre. Anche se devo farne ancora un video di una che mi è saltato. Niente, vediamo l'ultima animazione, poi ci salutiamo. È stato un piacere, una fatica come al solito. Ho detto una parolaccia verso la fine. Grande. 172k. Ci si becca alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.